Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Scoppia la polemica al grande fratello. Enzo Paolo Turchi si scaglia contro Clayton Norcross per gelosia nei confronti di Carmen Russo. La tensione esplode improvvisa nella casa, con l'accusa di attenzioni sospette da parte dell'attore americano alla moglie del coreografo. Enzo si definisce sanguigno e incapace di fingere, mentre Luca Calvani cerca di calmare gli animi definendo Norcross un piacione degli anni 90. Turchi però non si placa e continua la sua scenata di gelosia, sospettando un possibile tradimento da parte di Carmen. La Russo, dal canto suo, cerca di rassicurare il marito, ma il gesto di gelosia di Enzo desta preoccupazione. La coppia sembra attraversare un momento difficile, con Turchi che teme di non essere più amato dalla moglie. Resta da capire se la gelosia di Enzo sia giustificata o se si tratti solo di un momento di crisi nella coppia. La situazione al grande fratello si fa sempre più tesa, con Enzo Paolo Turchi che non sembra disposto a placare la sua gelosia nei confronti di Clayton Norcross. La storia tra Enzo e Carmen sembra attraversare un periodo di difficoltà, con il coreografo che teme di perdere l'amore della moglie. Resta da capire come evolverà la situazione e se Enzo riuscirà a superare i suoi dubbi e le sue paure. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.